Con la pandemia covid svolta green anche per il regalo della festa della mamma con la possibilità per tanti cittadini di fare le scelte giuste in un momento sicuramente complicato. L'iniziativa della Coldiretti che in occasione di una delle ricorrenze più amate ha dato questa mattina appuntamento nei mercati contadini in tutta Italia a Pescara nel mercato di campagna amica di via Paolucci che ha voluto ha potuto partecipare a campagne di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà dalla spesa sospesa di campagna amica all'operazione solo dal cuore, l'iniziativa promossa in tutta Italia da donne in presa della Coldiretti insieme ai volontari del QAM Medici con l'Africa. Noi donne di Coldiretti abbiamo ritenuto importante in questo momento, un momento ancora in piena pandemia, di dare un segnale, un segnale che è un segnale di solidarietà. La nostra agricoltura è un modello di welfare e deve essere un modello di welfare. E' partita quindi una rete di solidarietà nazionale ed anche internazionale che grazie alla disponibilità di alcune sarte hanno realizzato dei cuori meravigliosi con tessuto italiano e tessuto africano. Il ricavato di questa vendita andrà in beneficenza per dare supporto a quelle donne, quelle mamme che in Africa non riescono a portare avanti delle gravidanze con la dovuta assistenza di cui necessitano. E' importante perché l'agricoltura deve saper tendere la mano, così come ha fatto durante tutto il periodo della pandemia, non fermandosi mai. E' importante perché dobbiamo dare un segnale di solidarietà e di speranza anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo.